Buongiorno e benvenuti, questa è la segna stampa di oggi 10 ottobre, vediamo subito i temi che ci sono oggi sui giornali. Innanzitutto l'assalto alla sinagoga, avete tutti quanti i dettagli, è difficile entrare nel merito di una questione che si commenta da sé, ovviamente un pazzo neonazista, non è un pazzo, un neonazista che prende pistole, bombe e cerca di entrare in una sinagoga nella bassa Sassonia, non ci riesce grazie a Dio, grazie al cielo, come dice anche il rabbino dell'Al e uccide due passanti così ammazzati a caso, il suo tentativo era quello di fare una strage contro gli ebrei, specificatamente contro gli ebrei. La cosa che mi ha stupito su una storia incommentabile come questa, nel senso che ci vuole da commentare, è uno che deve marcire in galera ovviamente, buongiorno Stefano, ciao Enrichetta, vedo anche Martino, eccolo qua, oggi è il tuo compleanno, auguri Martino, grandissimo, ciao Beppe e anti che si sono collegati ora. Insomma la questione fondamentale è quella che mi ha fatto intravedere Repubblica, incubo neonazista dice Repubblica. Allora cari amici, nel momento e soprattutto voi che seguite questa zuppa e seguite il sito nicolaporro.it, sapete perfettamente che se c'è un'attenzione da parte mia nei confronti del mondo ebraico e del punto israeliano è fuori da qualsiasi minimo dubbio. Ma adesso pensare che l'incubo degli ebrei in Europa siano i neonazisti, certo detto questo nel giorno in cui un neonazista ammazza due persone per strada perché voleva fare una strage, e sembra ridicolo, ma vorrei semplicemente segnalare alla Repubblica che l'incubo neonazista c'è, ovviamente bisogna combatterlo, bisogna metterlo in galera, ma il problema è che gli ebrei stanno scappando dall'Europa, sono scappati dai quartieri della Francia, 60.000 su 350.000 che vivono nell'Iran du Smont parigini in cui non possono più vivere per colpa di chi? Dei fondamentalisti islamici. Stessa cosa avviene in Belgio, stessa cosa è avvenuta in Danimarca, stessa cosa è avvenuta in Olanda. Stiamo parlando di un incubo per gli ebrei in Europa in cui purtroppo non è soltanto l'incubo neonazista che scopre oggi Repubblica, ma è un incubo fondamentalista islamico grazie al quale loro si sentono giustamente sicuri nell'unico paese democratico che esiste in quella zona che si chiama Israele e a cui noi facciamo sempre un culo così e ce ne accorgiamo soltanto quando serve che in realtà vi è un incubo contro gli ebrei, in questo caso neonazista. Chiusa questa grande parentesi, anche, voglio dire, Itoni è arrivato ad un passo dallo stravolgere la storia europea, cioè questo neonazista è arrivato ad un passo dallo stravolgere la storia europea. Io sono ben felice che ci siamo accorti che ci sia una persecuzione nei confronti degli ebrei, ma non solo dei neonazisti che sparano e hanno sparato, ma purtroppo dei fondamentalisti islamici che li mandano a quel paese e che li vorrebbero tutti morti. Oggi ci accorgiamo che c'è un neonazista, diventa la prima pagina della Repubblica. Nel frattempo qualcuno di voi mi deve spiegare per quale motivo al mondo il mondo se la prende con i curdi. Il nostro mondo, quello occidentale, quello che non ama il fondamentalismo islamico, quello che considera terroristi quelli che mettono le bombe, che pensa che le prime medie arabi sono state una grande, gigantesca cazzata, noi stiamo permettendo a Erdogan di fare un culo così ai curdi che sono stati l'unico grande baluardo contro l'Isis che stava arrivando in Siria. Io vedete, ho delle posizioni molto semplici e banali. Non il nemico del mio nemico è mio amico, non è questa, ma è quello che ho visto fare ai curdi nei confronti dello Stato islamico. Quando gli altri scappavano, quando Obama faceva pippa, chi c'era lì a combattere? C'erano i curdi, per carità comunisti, KKK, quello che volete voi, ma erano loro che combattevano contro il fondamentalismo islamico, contro lo Stato islamico. L'idea che oggi vengano bombardati e lasciati soli mi ripugna, mi ripugna. E su questo mi sembra che i giornali siano pieni di cronaca, ma anche piuttosto imbarazzati nel non... Ops, qua sta succedendo un casino su queste mie riprese. Pieni di cronaca, ma anche imbarazzati nel prendere una posizione chiara nei confronti di Erdogan, che per altri versi viene sempre attaccato. Bellissimo per arrivare alle cose di casa nostra, il pezzo di Dario Di Vico oggi sul reddito di cittadinanza. Perché sul reddito di cittadinanza, a un certo punto, dopo sei mesi, si potrà fare un piccolo bilancio. Io, come avete visto, ricordo sul mio sito la mia discussione con Bonafede, mi scuso perché ho avuto anche dei termini, mi era salita il sangue al cervello, però quando Bonafede faceva il professorino, dobbiamo spiegare cos'è il reddito di cittadinanza, sì, lo dovete spiegare perché è una cazzata, perché non si troveranno lavori per questi qua, perché se non c'è il lavoro non lo trovi con il reddito di cittadinanza, non saranno i centri di collocamento a formare le persone. Lo dicevo due anni fa, e Di Vico oggi, andatevelo a vedere il mio dibattito sul sito nicolaporro.it, Di Vico oggi dice, scusate, a sei mesi di distanza, una cosa è certa, è che non ha creato nessun posto di lavoro. Uno, non ha aumentato il PIL come dicevate voi, non ha spinto gli inattivi a diventare attivi, non ha rivoluzionato il sistema del welfare italiano. Il reddito di cittadinanza, bisogna dirlo una volta per tutti, è una cagata pazzesca, è una frottola, fa orrore. Poi dopo, chi ne gode, che saranno 700.000 italiani indigenti, ovviamente saranno soddisfatti di questo, ma relativamente soddisfatti, perché vivere due anni con il reddito di cittadinanza, come prevede, non gli svolterà la vita, non cambierà la loro situazione di indigenza. Se non li troviamo e non li formiamo e non li mettiamo in un mercato che cresce, non gli cambierà nulla, nulla. Rimarranno dei pari in una società che sta salendo al 0,1%. Chiaro? Votato in fretta, dice Di Vico, come operazione di pura comunicazione. E non era difficile capirlo. Sentite, ci sono due cose che poi a me oggi mi affascinano, e una di queste è sul giornale. Ingroia, ve lo ricordate? Il magistrato Pulito, l'eroe del giornale De Grillini, cioè il fatto quotidiano. Ingroia, il siciliano che voleva, e Berlusconi in galera, e che si candidò addirittura alle politiche, gli hanno chiesto quattro anni per peculato i suoi ex colleghi magistrati. Quattro anni per peculato. Il punto non è tanto che gli chiedono l'anni, verrà, voglio dire, prosciolto e tutto quello che probabilmente potrà succedere, ma il punto fondamentale è che lui si è intascato, in un ente regionale, 117 mila euro di rimborsi spese. Allora, il fenomeno? I grillini, quelli del pauperismo, del fatto che rompono le balle, anche se tutti prendono un rimborso spese. Dove siamo finiti? Il loro magistrato, lasciate perdere che adesso rischia quattro anni di carcere per peculato, ma si è fatto dare 117 mila euro di rimborsi spese. Ma ragazzi, ma qua il mondo, cioè vale tutto, vale tutto, vale pure il fatto che oggi questa richiesta di quattro anni, ovviamente il fatto che si occupa pure a pagina 4, il titolo sopra, richiesta per il PM, cazzetti che nessuno di noi conosce, per... Cioè, il fatto è il nuovo... Cioè, ve lo ricordate? Quello che c'è il codice di procedura penale qua, poi c'è un neurone qua e un altro neurone qua. Questi due neuroni sono ostacolati dal codice di procedura penale. Ecco, quel codice di procedura penale però non si legge quando si parla di ingroia. Ovviamente se si parla, come fa oggi il fatto, di uno stadio che si deve fare a Milano, che dovrebbe fare sala, c'è la cementificazione, e il Milan, e Scaroni, e tutto quello che volete, si fanno paginate di pippe mentali, di rischi giudiziari. Ma quando il loro magistrato rischia quattro anni, zitti e muti, lo devo leggere sul giornale. Penati è morto. Era un comunista di vecchio stampo, qualcuno scrisse sui giornali il sistema sesto, quando fu indagato per tangenti, che poi lo videro in qualche caso prescritto in altri prosciolto. Oggi il pezzo più bello lo fa Michele Brambilla sul quotidiano nazionale, in cui dice semplicemente, ragazzi, qui non so se sia morto, come lui ha detto, legando il suo tumore alla sua malattia, alla questione giudiziaria, e che le questioni giudiziarie poi abbiano fatto qualche casino agli uomini politici, da De Michelis in poi, ce la ricordiamo bene. Ma una cosa, dice Brambilla, attenzione a sbattere i mostri in prima pagina. E questo certamente è una catena di infamità che non riguarda solo Penati, ma tanti altri. Grazie, Geggia, Il Fatto Quotidiano, Travaglio, Luisa, Angelo Grossi, Paride, tanti amici che stanno qua. Di Economia ne parliamo subito negli ultimi tre temi di giornata. Tasse per cena è il titolo del giornale, che però si autosmentisce, perché da una parte dice che vogliono aumentare dal 10 al 22% le tasse sugli alberghi e i ristoranti, cioè questi sono dei tossicodipendenti, neanche vanno nei ristoranti a bere e poi fanno queste proposte. Questi manco ce passano il ristorante, si pippano l'impossibile, quindi non mangiano, perché uno che propone di aumentare in un paese che dovrebbe vivere di turismo l'IVA su ristoranti e su alberghi, cioè veramente ha assunto sostanze stupefacenti di pessima qualità. Insomma, dovremmo anche cercare di bandirle queste, non perché facciano male, ma perché fanno proposte sbagliate. E questi tossicodipendenti però, spero e mi auguro, siano contrastati, così dice il giornale da Franceschini che non prende sostanze, almeno in questo caso, anche se mi sembra che avesse detto che fino a poco tempo fa c'era in Italia Gotham City. Oggi non so se c'è Gotham City, ma dalla parte del suo governo, accanto a lui, ci devono essere dei diavoli che lui cerca di contrastare, dicendo che non aumenterà l'IVA su questi. Però c'è una brutta aria di tasse, perché oggi sul Sole 24 Ore dicono che renderanno più difficili rimborsi fiscali, riprende quota la sugar tax, eccetera. Ora è lunedì, guardate, tra il quinto e il quinto ottobre qualche cosa vedremo di aumento di tassazione, anche perché c'è questa gigantesca bufala di 7 miliardi di recupero dell'evasione fiscale che ancora i giornali non hanno spiegato come verrà fatta. Ultime due notizie di oggi, scusatemi, Lufthansa ritorna in campo su All'Italia, lo scrivono molti giornali, però il dettaglio forse più importante è quello che scrive oggi il Sole 24 Ore, che rientra in campo e Luciano Benetton, che è un altro che dovrebbe essere della partita, si dice molto favorevole, ma c'è un piccolo problema che non ci vuole mettere i soldi, cioè vuole fare un'alleanza commerciale ma non vuole mettere l'equity, il capitale, e allora insomma come cacchio si fa a fare un'alleanza con loro e se all'Italia non ha il capitale di Lufthansa da chi lo prende? Ultima cosa, Mustier, il numero uno di Unicredit, la banca italiana guidata dai francesi e con capitale diffuso, dice che da 2020 ci saranno tassi negativi sui conti correnti. Beh, è una tesi, guardate che tutti oggi litigano, Fabi, l'associazione dei sindacati è contrarissima e ognuno ha buona ragione, dice che si aiutano le poste in questa maniera, adesso poi dopo si potrebbe un pochino più approfondire, ma c'è una tesi fantastica di questo grande liberale De Soto che io apprezzo particolarmente in cui dice in realtà il contratto di deposito non ha alcun senso che non venga pagato, ma comunque insomma è una tesi economica che forse a quest'ora della mattina non è poi così presto perché sono le 11 non è il tirà e non siamo in grado di affrontare nella zuppa, io vi ricordo che il 24 ottobre esce un libro che si chiama Le tasse invisibili. Avete presente? Tutti quelli che mi stanno guardando su Instagram e tutti quelli che mi stanno guardando su Facebook. Siccome è un libro che riguarda le tasse della minchia che siamo costretti a pagare per principi della minchia che siamo costretti a seguire ambientali, etici questa sugar tax io vi consiglio vivamente di prenotarlo. Io voglio che il mio editore mi dica Porro la prenotazione del tuo libro sta andando alla grandissima Tasse invisibili Nave di Teseo la mia pubblicità e con questa possiamo chiudere la zuppa di Porro di oggi dal 24 ottobre nelle migliori librerie italiane non so se si dice così. Ciao